Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting, qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi parliamo di inflazione perché nelle ultime settimane abbiamo visto una crescente paura da parte degli investitori e dei mercati di un possibile arrivo di inflazione, di un'alta inflazione, di un'inflazione superiore alle aspettative in futuro. Questa paura ha creato una sorta di piccola correzione nei mercati, almeno nelle scorse due settimane, che ovviamente hanno un po' spaventato e scosso quella che è la stabilità dei mercati che abbiamo visto da post marzo 2020 fondamentalmente fino ad adesso. Una crescita continua che ha permesso allo Standard & Poor's 500, ad esempio, di avere un rendimento addirittura positivo a fine 2020, nonostante la crisi del Covid. Quindi, aumento di inflazione è tendenzialmente atteso? Vediamo il perché in questo episodio, cercando però anche di commentare quelle che sono le problematiche legate all'inflazione e ovviamente riassumendo molto brevemente sugli elementi fondamentali dell'inflazione stessa. Quindi, ecco, parliamo di tutto questo citando alcuni degli illustri investitori del nostro tempo, come ad esempio Warren Buffett, che ha vissuto periodi di inflazione molto elevati, fine anni 70, inizio anni 80, e quindi può suggerirci quali sono le misure da prendere per combattere questo spettro dell'inflazione. Innanzitutto, breve riassuto su che cos'è l'inflazione, anzi diamo una definizione per far sì che tutti siano sulla stessa barca e sulla stessa linea d'onda. In economia l'inflazione è un aumento prolungato del livello generale dei prezzi dei beni e servizi, solitamente indicato in un periodo di tempo. Questo aumento di prezzi di beni e servizi fa diminuire il valore della moneta e in generale diminuisce il potere di acquisto dei cittadini, dei consumatori. Ecco perché il tasso di inflazione, generalmente indicato con una variazione percentuale da anno in anno, ecco che inizia ad essere molto importante perché deve essere sottratto al rendimento in cash che noi riceviamo dai nostri investimenti. Infatti, proprio come suggerisce Warren Buffett, la realtà è che l'inflazione non è solamente e unicamente un aumento dei prezzi nell'economia, ma è anche una vera e propria tassa sugli introiti, sul capitale, sul reddito. Ed è esattamente così che Warren Buffett la definisce, una tassa sugli investimenti, una tassa da cui non si può sfuggire se l'inflazione è molto alta. Vediamo con un esempio cosa si intende con questo e perché è a tutti gli effetti associata alla tassazione. Immaginiamo un business in Italia che a fine anno riporta nel proprio bilancio un ritorno sul capitale del 10%. 10% che viene, immaginiamo, anche in questo caso, distribuito tutto come sotto forma di dividendo ai propri investitori. Ora, in questo caso, possiamo immaginare quindi che gli investitori guadagnano il 10% sul loro capitale investito, almeno sotto forma di dividendo, escludendo quello che è l'aumento o la diminuzione dei prezzi dell'azione. Ora, l'investitore che riceve il 10% sul suo capitale tendenzialmente dovrà pagare, essendo questo 10% sotto forma di dividendo, dovrà pagare una tassa sul reddito. Immaginando che lo scaglione IRPEF di questo investitore è al 41%, beh, su quel 10% che riceve sotto forma di dividendo dovrà pagare un 41% di tasse sul reddito, lasciando a tutti gli effetti l'investitore con un 5.9% finale di guadagni derivanti da dividendo. Tuttavia, il tasso di inflazione deve essere inserito nell'equazione. Se nell'economia c'è un tasso di inflazione allo 0%, idealmente l'investitore può portarsi a casa tutto il rendimento esentasse al netto delle tasse, quindi appunto questo 5.9% sui dividendi ricevuti. Tuttavia, se l'inflazione è ad esempio del 5%, ecco che dobbiamo sottrarre il tasso di inflazione al rendimento finale dell'investitore. Quindi 5.9% meno 5%, ecco che l'investitore si ritrova con uno 0.9% di ritorno sul suo investimento. Ora, in questo esempio noi abbiamo utilizzato la tassa sul reddito per semplicità, ma in realtà la stessa identica cosa vale con la tassa sul capitale, anzi sulla plusvalenza, quindi appunto sul capital gain si direbbe in inglese, una tassa sicuramente più bassa rispetto a quella del reddito che si va a calcolare semplicemente sulla plusvalenza da investimento. Però il sistema è esattamente lo stesso, noi dobbiamo sottrarre l'inflazione al rendimento sul nostro investimento. E come potete ben immaginare, maggiore sarà l'inflazione e peggio sarà per i nostri rendimenti, per i nostri investimenti. E di conseguenza gli investitori sono spaventati dall'inflazione. Anche le aziende in realtà hanno lo stesso identico problema. Se pensiamo agli anni 70 e anni 80, quando l'inflazione è arrivata ad essere intorno al 12%, ecco che un business che non riusciva ad avere una performance annuale migliore di quel 12%, semplicemente vedeva il proprio potere d'acquisto perdere valore di anno in anno. In questo esempio ipotetico, un business degli anni di fine anni 70, inizio anni 80, idealmente avrebbe perso soldi se avesse avuto un rendimento dell'8% contro un'inflazione del 12%. In termini nominali, su carta, il business avrebbe effettivamente realizzato dei guadagni. In termini di economia reale, invece, il business avrebbe avuto una svalutazione in quell'anno. Ecco perché l'inflazione è a tutti gli effetti una tassa sul capitale, una tassa sugli investimenti, ed è anche per questo motivo che le banche centrali di tutto il mondo, prendiamo le due più importanti, la Fed e la BCE, hanno come mandato principale quello della stabilità dei prezzi, del controllo e la gestione dei prezzi. Ricordiamoci anche che il tasso di inflazione va ad influenzare quelle che sono poi i tassi di interesse sui vari mutui e sui finanziamenti che erogano le banche. Questo perché molto semplicemente una banca che gestisce e guadagna tramite l'emissione di denaro sotto forma di finanziamento e quindi di conseguenza l'introito di un interesse, ecco che nel momento in cui aumenta l'inflazione non può permettersi che il tasso di inflazione vada a derodere gli introiti derivanti dai tassi di interesse. Questo è molto importante, infatti noi dobbiamo prepararci a vedere tassi di interesse aumentare e in generale quindi il costo del denaro aumentare nel momento in cui c'è un picco verso l'alto di inflazione. Ecco, d'altra parte voi potreste chiedermi ok ma perché stiamo parlando di inflazione? Ricordiamoci che negli ultimi 12 anni l'inflazione è stata molto bassa, un po' in tutto il mondo, sia in America che in Europa, che in Giappone e in altre parti del mondo, in Giappone in maniera anche più importante. Beh, parliamo di inflazione perché il rischio di entrare in una fase inflazionistica dell'economia esiste ed è abbastanza alto. L'abbiamo già parlato in un altro episodio basandoci sulle stime di Ray Dalio e di Bridgewater & Associates. Ora, l'inflazione potrebbe aumentare perché? Quali sono le cause? Inizialmente dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, ne abbiamo parlato anche l'altra volta. L'operato delle banche centrali legato alle operazioni di mercato aperto e in generale quindi alla politica monetaria è sicuramente al centro dell'attenzione per quanto riguarda le possibili variazioni del tasso di inflazione. Infatti le banche centrali di tutto il mondo dopo la crisi finanziaria del 2008 hanno iniziato e continuato una politica monetaria ultraespansiva in cui fondamentalmente emettevano moneta e nel frattempo acquistavano asset finanziari a tassi di interesse molto bassi. Quindi politica monetaria numero uno, taglio dei tassi di interesse, politica monetaria numero due, quantitative easing e quindi acquisto di obbligazioni e emissione di moneta e acquisto di asset finanziari all'interno dei mercati. Queste due politiche insieme hanno creato un eccesso di liquidità nel sistema. Perché hanno fatto questo? Semplicemente per mantenere un livello di inflazione che fosse stato abbastanza controllato, stabile, sotto controllo. Ora, probabilmente possiamo affermare che l'idea delle banche centrali era di aumentare un pizzico l'inflazione più di quella che poi è stata l'inflazione effettiva degli ultimi dieci anni, dodici anni di storia. Possiamo anche quindi assumere e affermare che non sono riusciti totalmente a creare questo picco, tra virgolette, di inflazione superiore al 2%, a parte in qualche occasione. Tuttavia, gli sforzi per arrivare a questa inflazione, a questa stabilità dei prezzi, sono stati ingenti. Quindi le politiche monetarie possiamo dire che sono state molto forzate affinché ci fosse moltissima liquidità nel sistema. Ricordiamo che una maggiore liquidità nel sistema significa anche una maggiore svalutazione della moneta e quindi è pro-inflazione, quindi spinge l'inflazione, potremmo dire. Ecco, queste politiche hanno sicuramente aiutato a mantenere stabili i prezzi. D'altra parte, non c'è stata un'inflazione tale da poter vedere una crescita economica ingente, come si auguravano le banche centrali. Ora, la politica monetaria numero 3, che è quella che abbiamo visto recentemente, prevede una coesione tra banche centrali, quindi politica monetaria, e governi, quindi politica fiscale. Questa coesione, questo accordo, fa sì che le banche centrali operino tramite, appunto, una politica monetaria espansiva, mentre i governi emettono liquidità tendenzialmente sotto forma di stimoli fiscali. Quindi, anche qui, è l'unione tendenzialmente di due politiche ultraespansive. Questo l'abbiamo visto moltissimo negli ultimi mesi e durante l'anno scorso, ma in realtà tuttora ci sono degli stimoli che sono pronti a partire, soprattutto in America, ma ovviamente ci sono stati anche in Europa e da altre parti del mondo, e soprattutto poi la presidenza Biden adesso sta cercando di spingere e in un certo senso velocizzare l'arrivo di questi stimoli per far riprendere l'economia nella maniera più veloce e indolore possibile. Però ecco, è moltissima liquidità inserita nel sistema. Liquidità che serve, soprattutto quella che viene dalla politica fiscale, per appunto far sì che le aziende possano rimanere in piedi, aziende che magari hanno dimezzato le proprie operazioni, aziende che sono più in difficoltà. Ecco che quindi l'economia di tutto il mondo ha moltissima liquidità, un altissimo volume di liquidità iniettata nel sistema per far sì che non si verifichino dei crolli importanti, che non ci sia una disoccupazione dilagante e che effettivamente non ci sia una recessione molto pesante che potrebbe e sicuramente inficerebbe pesantemente le vite di tutti i cittadini. Quindi, tornando a noi, con l'idea che tra poco, tra qualche anno, speriamo qualche mese, dipende come va la campagna dei vaccini, e in generale quanto riusciamo a debellare questo coronavirus, idealmente noi tra poco dovremo riaprire le economie al 100%, o quantomeno in scala graduale, fino a riaprirle, si augura nel 2022, al 100% come e ai livelli pre-pandemici. Nel momento in cui questo accade, gli analisti si aspettano un aumento enorme di inflazione. Perché questo? Beh, è molto semplice da capire, da immaginare. Nel momento in cui si torna alla vita normale, effettivamente i cittadini inizieranno a spendere di più, torneranno a spendere come prima, e anzi, forse anche di più, considerando quello che, tra virgolette, si sono persi durante questo anno di pandemia. Quindi, ecco, i consumi dovrebbero aumentare molto rapidamente. Questo aumento dei consumi fa sì che la domanda di moltissimi beni e servizi dovrebbe aumentare e di conseguenza dovrebbero aumentare i prezzi. Questa è l'idea di fondo che c'è. Nel momento in cui l'economia negli ultimi anni è stata iniettata di denaro e di stimoli e di soldi, ecco che i prezzi hanno la possibilità di aumentare rapidamente perché aziende e cittadini e governi hanno la possibilità di spendere in maniera importante durante quando l'economia si riprende, quando riusciremo a debellare il virus completamente. Ora, un'altra domanda che voi potreste farmi è ok, però c'è veramente ancora parecchio tempo prima che questo succeda, perché dovremmo iniziare a preoccuparci da adesso dell'inflazione quando ancora le campagne vaccinali, ad esempio, sono molto indietro e quindi c'è ancora molto tempo prima che l'economia e le economie internazionali possano riaprire? Beh, è importante pensare al passato e alla storia per capire come potrà andare in futuro. Infatti, durante gli anni 70-80, quindi momenti e periodo in cui l'inflazione era veramente galoppante in America in modo particolare, è importante ricordare che i peggiori rendimenti del settore azionario non si sono visti quando l'inflazione era ai picchi massimi, ma in realtà si sono visti quando, a inizio anni 70, l'inflazione iniziò ad aumentare rapidamente. Infatti, dal 72 al 73 l'inflazione raddoppiò durante quegli anni fino ad arrivare a più del 6% annuo. Ora, nel 74 l'inflazione era già intorno all'11%, quindi un'inflazione galoppante, velocissima, rapidissima in quei primi 4 anni degli anni 70. In quei due anni, quindi 72 e 73, lo Standard & Poor's, diciamo, diminuì per un totale del 40% in due anni. Ora, in realtà, l'inflazione raggiunse il picco massimo nel 79 e nell'80, raggiungendo appunto questo picco del 13,5%, momento in cui però lo Standard & Poor's 500 era già tornato a performance positive e quindi linea di massima aveva già scontato il brutto periodo di inflazione. Ora, quello fu a tutti gli effetti uno dei periodi più bui dell'azionario americano perché l'inflazione era veramente molto alta e quindi i rendimenti dovevano essere scontati con l'inflazione come abbiamo visto prima. Tuttavia, storicamente, sono stati proprio i primi anni di inflazione ad essere impattanti per il mercato dal punto di vista azionario. Ecco perché ne stiamo parlando adesso, soprattutto considerando le valutazioni attuali dei prezzi delle azioni, molto più alte rispetto che al passato e rispetto ai vari indicatori di cui abbiamo anche già parlato in altri episodi. Ecco che quindi l'arrivo dell'inflazione e non tanto l'inflazione stessa ma l'idea che arriverà nell'inflazione potrebbe spaventare i mercati e potrebbe causare una sorta di correzione del mercato azionario ed è per questo quindi che ne stiamo parlando adesso. Quindi, ora che abbiamo analizzato i rischi di inflazione sui nostri investimenti e ora che abbiamo definito l'inflazione come una sorta di tassa nascosta sui rendimenti dei nostri investimenti o sul capitale, cerchiamo di capire cosa fare per evitare che l'inflazione possa erodere i nostri rendimenti e quindi privarci dei nostri guadagni. E lo faremo andandoci a studiare quelle che sono delle pillole di saggezza lasciateci da Warren Buffett in quegli anni, negli anni 80, negli anni 70, appunto negli scritti del meeting con gli azionisti che si tiene ogni anno per Berkshire Hathaway. Andiamo a prenderci qualche pillola di saggezza prendendo qualche punto che poi andremo ad analizzare insieme. Punto numero uno, in periodi in cui l'inflazione è molto alta i profitti, i guadagni sul bilancio di fine anno non sono l'unica cosa da guardare di un business. Sfortunatamente, i business devono raggiungere quella che è chiamata in termine tecnico una Harder Rate quando c'è alta inflazione. Semplicemente, se l'inflazione è al 5%, i business devono avere un rendimento superiore al 5% per far sì che abbiano un ritorno sul capitale investito positivo nell'economia reale. Come detto anche prima, gli azionisti devono tenere in considerazione anche la tassazione quando appunto vogliono vendere o quando ricevono dei dividendi su questi investimenti che, come abbiamo detto prima, va a sommarsi al tasso di inflazione. E questo è un altro elemento creato ed espresso da Warren Buffett molto bene, il cosiddetto Misery Index. Tendenzialmente abbiamo detto che è il tasso di inflazione più i punti percentuali del capitale che deve essere pagato dai proprietari e dagli azionisti per trasferire le azioni dal proprio conto trading alle proprie tasche. Quindi appunto la Capital Gain Tax nel momento in cui si vende un'azione oppure i dividendi nel momento in cui appunto si ricevono dividendi da un investimento. Quando questo indice, quindi il Misery Index supera il ritorno sul capitale di un business ecco che in realtà l'investitore tendenzialmente ha avuto una svalutazione del proprio potere d'acquisto senza effettivamente aver consumato assolutamente nulla. Mi raccomando da non confondere l'indice di miseria con quello dell'economista Hartun Okun che invece è basato sulla somma del tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione. In questo caso era semplicemente una creazione di Warren Buffett nella sua lettera agli azionisti per appunto definire quello che è l'indice di miseria di un investitore. Quindi due cose totalmente separate e assolutamente non correlate tra loro. Terzo punto, l'inflazione è un problema ancora più grande, Warren Buffett lo chiama una tenia per i business che non sono in gran forma o i cosiddetti bad business o comunque tutte le aziende che sono in difficoltà e che non sono gestite al meglio. Questo è abbastanza ovvio perché nel momento in cui l'inflazione è molto alta e appunto il business deve superare un hardware rate appunto derivante dal tasso di inflazione ecco che effettivamente un business che non era in grado di far bene pre-inflazione è molto difficile che riesca a riprendersi quando l'inflazione è molto alta. Quindi dobbiamo tenere in considerazione che nel momento in cui c'è inflazione noi dobbiamo selezionare i business giusti su cui investire. Questo è quello che suggerisce Warren Buffett in una delle sue lettere. Molto lucidamente Warren Buffett suggerisce che nel momento in cui un business non è in grado di avere un buon ritorno sul proprio capitale l'unica cosa che può fare e che dovrebbe fare è detenere più cash possibile evitando di spendere troppo in un momento in cui ovviamente i prezzi continuano a salire legati all'inflazione. Non perché questo sia effettivamente attraente dal punto di vista di investimento ma perché non ci sono alternative. In un ambiente in cui i prezzi continuano ad aumentare rapidamente ecco che i business che non riescono ad avere un alto multiplo sul proprio capitale investito deve cercare di evitare i consumi a tutti i costi e piuttosto cercare di tenere cash cercando di lavorare internamente per migliorare i propri margini piuttosto che invece spendere ed investire che è molto costoso e tuttavia non offre rendimento adeguato al business stesso. E questo ci porta al punto numero 4 cioè concentrarsi sulle aziende che generano cash invece che sulle aziende che lo consumano velocemente nel momento in cui l'inflazione aumenta. Questo perché le aziende che appunto consumano cash per mantenere il livello di produzione il livello di volume di scambio e in generale di commercio e di vendita interne dovranno investire di più e spendere di più per raggiungere i livelli di vendite dell'anno precedente in un ambiente appunto di alta inflazione. Quindi invece Warren Buffett suggerisce preferite aziende che hanno alti margini che non hanno bisogno di molto capitale per poter operare almeno dal punto di vista di capitale ricorrente sostituibile ogni anno. Questo è molto importante vogliamo un'azienda nel momento in cui c'è alta inflazione che non ha bisogno di spendere molto denaro per generare gli stessi volumi di vendita in un ambiente non inflazionatorio. Molto intelligente come consiglio e anche abbastanza ovvio nel momento in cui ci andate a riflettere. Il punto numero 5 è simile però ha una connotazione e un punto di vista leggermente diverso. Scegliamo aziende che possono aumentare i prezzi e gestire gli stessi volumi di business senza dover spendere moltissimo. In questo caso la differenza qual è? Scegliamo aziende che possono aumentare il loro prezzo senza necessariamente vedere i propri volumi dimezzarsi o appunto azzerarsi per avere aumentato i prezzi. Quindi è molto importante è selezionare aziende che hanno il cosiddetto economic moat che appunto è questo vantaggio competitivo per cui riescono a decidere quello che è il prezzo di una commodity o un determinato bene o servizio. Ecco queste aziende hanno un vantaggio competitivo ancora ulteriore durante un periodo di inflazione perché possono aumentare i loro prezzi senza necessariamente andare a dimezzare le unità di vendita e in generale i volumi di vendita i volumi di business il turnover così chiamato. Punto numero 6 e punto numero 7 gli ultimi due sono un po' più diciamo macroeconomici. Quello che suggerisce Warren Buffett è che nonostante tutto alla fine dei giochi la palla è in mano alle autorità ai governi alle banche centrali. Infatti noi possiamo investire quello che vogliamo in euro ma semplicemente poi sta alla banca centrale europea a mantenere una certa stabilità dei prezzi o far sì che la valuta sia più o meno stabile o in aumento o in diminuzione rispetto ad altre valute. Ecco che quindi i ruoli dei governi e delle banche centrali è fondamentale. È ovvio che se l'euro da un giorno ad un altro dovesse subire un'inflazione enorme in confronto al dollaro ecco che noi staremo perdendo moltissimi soldi in paragone ad altri paesi internazionali. Ecco quindi alla fine la palla lo ha il governo e lo hanno le autorità e quello che suggeriva Warren Buffett durante una delle sue lettere è semplicemente potete voi investitori rimanere con noi Bersha Rathway per un lungo tempo noi potremmo anche avere dei rendimenti incredibili dei profitti enormi come business però alla fine tutto sta in come la banca centrale americana in quel caso gestisce i nostri soldi il valore della valuta. Molto importante non proprio una soluzione tra virgolette all'inflazione però sicuramente un punto su cui riflettere. L'ultimo punto è che non c'è una vera soluzione all'inflazione. Forse una delle soluzioni potrebbe essere far sì che i governi effettivamente lavorino sul e con l'inflazione quindi magari unendo quelle che sono le tasse con una sorta di rata di inflazione. Qualcosa già esiste ovviamente non è una idea totalmente nuova e anzi parliamoci chiaro la banca centrale le banche centrali hanno provato stanno tentando di risolvere questo problema appunto avendo come mandato la stabilità dei prezzi. Vediamo se tutto l'operato di politica monetaria fiscale degli ultimi anni alla fine porterà a una stabilizzazione totale dei prezzi oppure si porterà a un'inflazione galoppante e quindi probabilmente anche a dei problemi economici. Vediamo cosa succederà d'altra parte alla fine sta a loro gestire i prezzi aggregati dei beni servizi e quindi l'inflazione. Quindi per concludere questo podcast leggermente più lungo del normale quello che è il riassunto finale è che per diciamo trovare una soluzione all'inflazione per resistere all'inflazione per cercare di avere rendimenti positivi nonostante l'inflazione bisogna investire ma bisogna soprattutto investire bene nel metodo corretto seguendo e investendo negli asset giusti e quindi non bisogna tra virgolette investire a caso questo è un po' il senso che è ovvio che sia anche un po' la filosofia generale di Warren Buffett che suggerisce di non investire con i trend ma piuttosto investire con buon senso con razionalità con intelligenza conoscendo la macroeconomia ma conoscendo anche i business soprattutto la ragioneria che c'è dietro al business e a un'azienda quindi ecco io vi invito a riprendere questo podcast magari leggermente più complicato degli altri riguardare qualche numero riguardare qualche consiglio di Warren Buffett e magari approfondire anche l'idea dell'inflazione dell'importanza che ha l'inflazione nel nostro mondo nella nostra economia non diamo per scontato che l'inflazione non ci sarà più in futuro solamente perché non c'è stata negli ultimi 15 anni è molto importante non fare questo errore l'economia è ciclica e diciamo l'inflazione è una di quelle variabili che ricorre nel tempo ciclicamente quindi non scomparerà mai del tutto come non è scomparsa del tutto in epoche passate quando l'inflazione era molto bassa ora è stato un piacere essere qui con voi come sapete perfettamente abbiamo dei corsi di finanza che offriamo per i nostri clienti e anche dei servizi di consulenza nel momento in cui abbiate bisogno di un piano di investimento o di capire qualcosa in più sulle vostre finanze o su il mondo degli investimenti se volete lavorare con noi fate un salto sul nostro sito web guardatevi quelli che sono i pacchetti e magari scriveteci se avete bisogno di qualche informazione in più noi siamo qui per questo quindi basta veramente contattarci e faremo di tutto per cercare di darvi una mano risolvendo i vostri problemi e magari anche aiutandovi nell'investire nel lungo periodo ora è stato un piacere essere qui con voi noi ci sentiamo ad un altro episodio ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.